Mandole, alla vigilia dell'esordio in casa contro Tortona, riduci da una brutta scompitta all'esordio in campionato, domenica la partita dovrà per forza essere diversa. Sì, sicuramente. Noi dobbiamo vincere, giocare bene, soprattutto in difesa, la domenica, per rispetto a noi, per rispetto alla squadra e per rispetto ai tifosi. Adesso io mi sento male, perché abbiamo lavorato tutta la prestazione, la difesa, parlando della difesa, e adesso non lo stiamo facendo bene. Non è che abbiamo mentito in questo, lo abbiamo detto, lo sentimo, sappiamo che dobbiamo migliorare, i giocatori lo sanno, e alla fine penso che dopo una settimana di lavoro, con la testa al 100% in questo, lo faremo meglio.